Questo notario 2020 purtroppo passerà senza i nostri cari, esattamente come il capodanno e quindi oggi voglio parlarvi di un modo per sfruttare la tecnologia a nostra disposizione per avvicinarci ai nostri amici o ai nostri parenti e questo lo faremo attraverso dei dispositivi Amazon in particolar modo con 7 più 1 funzioni che utilizzerete in maniera compulsiva durante le prossime vacanze Cominciamo! Partiamo da una non funzione in realtà, una cosa che forse molti di voi già conosceranno ossia la possibilità di andare a cambiare la frase di attivazione dei nostri dispositivi Echo Lo vado a fare in maniera preventiva per evitare di fare impazzire tutti i vostri amici in questo video Per fare questo ci basterà aprire l'applicazione di Echo sul nostro smartphone e cliccare sulla voce dispositivi ed infine cliccare su Echo A questo punto ci verrà richiesto di scegliere uno dei nostri dispositivi nel mio caso Echo Dot e mi si apriranno le impostazioni dove potrò cambiare la parola di attivazione in questo caso in Amazon Spero di ricordarmelo per le prossime attivazioni ma non ne sono tanto sicuro La prima vera funzionalità di cui voglio parlarvi è quella che ci permette di effettuare chiamate o videochiamate con il nostro Amazon Echo Ovviamente le videochiamate in maniera nativa saranno possibili unicamente sull'Echo Show o l'Echo Spot che presentano una fotocamera e un display Nel caso avviate invece semplicemente un Echo Dot come nel mio caso verrà sfruttata la fotocamera del vostro smartphone all'interno dell'applicazione Amazon Chiama Mikael tutto Android Chiamo i dispositivi Alexa di Mikael tutto Android Ciao Mik Ciao eccoci Ci siamo scervellati con Mik per capire come spiegarvi senza intoppi e senza tutte le difficoltà che abbiamo avuto noi come attivare questa funzionalità e devo dire che forse era più semplice del previsto La prima operazione da fare ci riporta nella pagina di configurazione nel mio caso di Echo Dot sull'applicazione per il nostro smartphone Infatti qui sotto la voce comunicazione dovremo essere sicuri di aver spuntato chiamate e messaggi per averla attivata sul nostro dispositivo A questo punto avrete la necessità di aggiungere sulla vostra rubrica telefonica l'indirizzo email del contatto che volete chiamare o dei contatti che volete chiamare e volendo fornire la possibilità di utilizzare la chiamata rapida Drop In che andrà a creare un piccolo banner rapido all'interno della vostra app Alexa Fate solo attenzione che il vostro amico o parente abbia attivato anche nel vostro contatto all'interno dell'applicazione la modalità Drop In così da non dover ogni volta accettare la chiamata quando viene effettuata Ed il gioco è fatto La seconda funzione ci prende direttamente per la gola visto che Alexa ci aiuterà a cucinare fantastiche ricette attraverso il menù di Giallo Zafferano Amazon, come si prepara la torta di mele? Giallo Zafferano ti propone torta di mele in mascarpone torta di mele soffice cosa vuoi cucinare? Torta di mele soffice Verremo infatti guidati in tutti gli step, in tutti i passi necessari alla realizzazione dell'apitanza che vogliamo fare e devo dire che almeno personalmente mi sono trovato meglio di quei libri cartacei o addirittura delle ricette che trovavo in rete La terza funzione ci permetterà invece di collegare più dispositivi tra loro per andare a riprodurre musica sfruttando tutti gli speaker andando quindi ad avere un volume più elevato e anche un effetto stereo molto interessante Per attivare questa funzionalità come sempre dovremo aprire la nostra app cliccare su dispositivi ed infine sul tasto più ossia il tasto aggiungi presente in alto a destra che farà comparire una tendina a tre dalla quale dovremo selezionare combina altoparlanti a questo punto avremo ben tre modalità ossia musica multistanza, home theater e coppia stereo così da poter usare i nostri dispositivi eco in maniera super versatile io purtroppo ho solo un dispositivo eco dot ma se ne avessi avuto anche solo un altro la modalità stereo che avrei creato sarebbe stata molto interessante Penso che quasi tutti voi che state guardando questo video abbiate Spotify magari nella sua versione premium allora perché non andare a sfruttare questo abbonamento anche sui dispositivi di casa Amazon? a questo proposito la quarta funzionalità ci permetterà di andare a modificare il player per il nostro streaming audio scollegandoci quindi dall'Amazon Music che è solitamente preimpostato sui dispositivi eco per impostare Spotify o ad esempio anche Apple Music ci basterà recarci in impostazioni cercare la voce musica e collega nuovo servizio a questo punto sarà semplicissimo andremo ad inserire le nostre credenziali e effettueremo l'accesso cambiando poi il player predefinito la quinta funzione devo dire la verità l'ho scoperta anch'io di recente sono sicuro che molti di voi non la conosceranno ed è davvero molto interessante per andare a passare il tempo in solitudine durante queste vacanze natalizie e è la funzione giochi con i nostri Amazon Echo ci basterà infatti chiamare il nome di un gioco per avviarlo e giocarci in maniera interattiva dialogando con la nostra Amazon giochiamo ad Akinator ciao mi chiamo Akinator so leggerti nel pensiero pensa a un personaggio e io proverò a indovinarlo per il mio esempio ho utilizzato Akinator un gioco che penso molti di voi conosceranno e ci permette di indovinare dei personaggi famosi semplicemente rispondendo ad alcune domande ma con la c***a che ce le fa con questo sistema interattivo devo dire che il tempo passa più velocemente ed è anche molto più divertente chiaramente non è l'unica soluzione non è l'unico gioco presente ma magari c'è anche uno dei vostri giochi preferiti vi basterà cercare online o magari nella recensione testuale che troverete qui sotto vi porterò qualche altra piccola alternativa siamo arrivati alla sesta funzione e per questo ho scelto la modalità sottovoce che potrà essere attivata in due modi la prima è così Amazon attiva modalità sottovoce ok la funzione risposte sottovoce è attiva Amazon che tempo fa a Roma in questo momento a Roma Lazio c'è un cielo parzialmente soleggiato e la seconda invece tramite la nostra applicazione ci basterà infatti recarci in altro impostazioni e risposte vocali questa divertente funzionalità come avete visto ci permetterà di dialogare con il nostro Amazon Echo sottovoce ricevendo una risposta chiaramente nel modo analogo andando ad evitare di disturbare tutte le persone che magari sono all'interno della nostra abitazione per tutti coloro che anche in questo difficile momento sono costretti a recarsi sul posto di lavoro quindi non sono in modalità smart working a una sorpresa per voi per cominciare al meglio la giornata infatti la settima funzionalità riguarda la possibilità di ricevere informazioni sul traffico nel tragitto prestabilito tra casa e lavoro oppure più semplicemente tra un punto A e un punto B per attivarlo come sempre è semplicissimo ci basterà entrare nelle impostazioni trovare la voce relativa al traffico definire il punto di partenza e il punto di arrivo oltre ovviamente a richiedere le informazioni sulla percorrenza potremo anche decidere su quale applicazione andare ad utilizzare tra ad esempio Google Maps o Waze e creare una routine che ogni mattina ci dice esattamente quant'è il tempo per arrivare tra i due punti che abbiamo definito in precedenza questo è solo il primo di una serie di video che vi permetterà di districarvi nel mondo della tecnologia e in particolar modo come abbiamo visto degli assistenti vocali spero che tra queste sette più una funzionalità ce ne sia stata almeno una o due interessanti che vi abbiano colpito e che magari non conoscevate in questo caso chiaramente magari lasciatemi un commentino qui sotto perché sono sicuro che tanti altri conosceranno funzionalità che magari io non conosco e che potremo portarvi in un prossimo video comunque se vi è piaciuto potete lasciare un bel like iscrivervi al canale e perché no cliccare sulla campanellina per non perdere nessuno dei nostri prossimi video e noi ci vediamo sempre qui ciao a tutti da Nicolò